Ci siamo, tra poche ore la Virtus Cassa di Risparmio di Lucca vivrà uno dei momenti clou della stagione sportiva 2015, proprio nell'anno che celebra i 40 anni di vita del sodalizio bianco celeste. Si riparte dall'amaro nono posto dell'Arena Civica di Milano datato fine settembre 2014, quando la squadra pagò ancora una volta pesante dazio alla sfortuna, sotto forma di infortuni anche dell'ultima ora. La voglia, e tanta, è quella di tornare nel gota dell'atletica leggera italiana, ovvero di centrare la finale oro a 12 che si disputerà il 26-27 settembre a Marcon in provincia di Venezia. La società non ha lesinato impegno e sforzi anche economici per allestire una compagine di tutto rispetto, anche se la qualificazione non è facile né tanto meno scontata. Teatro della prima delle tre prove per entrare nella top 12 sarà sabato e domenica lo stadio Emilzato, Pec di Campi e Visenzio, dove tre anni fa la Virtus disputò una non esaltante finale argento. Definito lo schieramento con grandissima attenzione ai punti di forza, Puccini, Orsi, Jacobs, Levi Roche, ma anche Polli, Chisorio, Chimeli e le staffette, soprattutto la 4% dove Martinelli schiererà due quartetti. Ma anche gli altri, non li citiamo tutti, dovranno dare il meglio poiché l'obiettivo è dichiarato. Subito il punteggio importante che andrà a Benone si oscillerà tra i 17.400 e i 17.800 punti, oltre sarebbe Grasso che cola. La retrocessione di club titolati come Bergamo, Padova e Bolzano rende tutto più intrigante e complicato. Annotazione finale sulle donne, dopo oltre dieci anni torna la squadra femminile della Virtus, che non inseguirà il risultato di squadra, ma vorrà mettere in evidenza alcune interessanti individualità.